Amici di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio torniamo ad occuparci di impronte femminili, la rassegna di arte e cultura per le pari opportunità e i diritti umani. Ultima puntata per presentarvi il calendario o meglio la seconda parte del calendario di luglio di questa quarta edizione e lo facciamo con l'assessora Sara Cucchiarini, ben trovata. Ben trovata Maria Elena. Allora gli ultimi appuntamenti sono ricchi di ospiti e ricchi di sorprese. Sì direi di sì, sono due appuntamenti molto carichi, molto strutturati direi e due appuntamenti che vanno ad occupare due spazi della città molto pregevoli che saranno in grado di anche valorizzare con l'offerta proposta i luoghi che andiamo ad occupare. Il primo si terrà il 16 di luglio, uno spettacolo al quale abbiamo lavorato da tempo e sono oltre due anni che stiamo lavorando la messa in scena di quello che è il concerto segreto delle dame che abbiamo pensato per la corte malatestiana di Fano. È la messa in scena di un fatto storico, poi non voglio svelare i contenuti dell'appuntamento perché lo farà meglio di me Giovanna Donini che è la persona dal quale impulso è nata l'idea di questo incontro, un appuntamento che abbiamo costruito come dicevo da tempo insieme inizialmente ai ragazzi dell'associazione libraria che voglio ringraziare, voglio citare, Antonio Gabbiani e Daniela Luigi per poi vedere delle evoluzioni particolari perché come sappiamo c'è stato il Covid, questo spettacolo doveva andare in scena lo scorso anno ma non è stato assolutamente possibile date le condizioni per cui abbiamo dovuto ripensare un po' lo spettacolo. Nel frattempo lo scorso anno abbiamo aperto una piccola finestra online per dare qualche elemento della ricerca storica e filologica che va a definire questo spettacolo musicale e teatrale per poi arrivare quest'anno con la collaborazione piena dell'associazione Pandolfaccia che ringrazio oltre perché diciamo si occuperà di mettere in scena dei importanti tableaux vivants che renderanno diciamo il contesto ancora più veridico e interessante ma anche perché comunque sono stati in grado di dare una grande mano da un punto di vista organizzativo perché spettacoli come questi in contesti come questi sono molto complicati e io sono comunque molto orgogliosa del lavoro che è stato fatto e penso che insomma la città potrà apprezzare questa offerta in quel luogo. Questo è l'appuntamento di venerdì 16 luglio alle 21 e 15 alla Corte Malatestiana. Esatto e adesso insomma vogliamo sapere qualcosa di più da Giovanna Donnini e Fabio Frattesi. Un soprano e il presidente della Pandolfaccia questo apparentemente strano connubio per un bello spettacolo che andrà in scena prossimamente quindi una performance musicale letteraria. Allora vogliamo sapere qualcosa ovviamente ma non troppo innanzitutto Giovanna come nasce questa idea e che cosa a quale spettacolo insomma assisteremo? Allora è uno spettacolo come dicevi tu musicale letterario nato dalla collaborazione con il dottor Luigi Daniele e il dottor Antonio Gabbiani con il quale collaboro da tanti anni per altre cose sempre molto coinvolgente lavorare con loro ma sono soprattutto creativi come me. L'idea mi è venuta perché comunque si studia sempre quindi mi sono cimentata nello studio del canto rinascimentale ho conosciuto le prime figure femminili che hanno composto musica Maddalena Casulana, Barbara Strozzi, Francesca Caccini e mi hanno incuriosito il loro modo di comporre perché comunque poi hanno un modo tutto loro forse più delicato nella composizione rispetto ad un ad un compositore uomo anche del periodo e ho cominciato a studiare le figure femminili proprio il loro modo di vivere e mi sono imbattuta con questo concerto segreto delle dame tre compositrici, liutiste, cembaliste, cantanti che hanno messo insieme questo gruppo e hanno animato le giornate perché erano proprio delle giornate intere della corte del duca Alfonso II d'Este erano state come dire assoldate perché vivevano all'interno della corte ma erano anche stipendiate diciamo così per battesimi, arrivi improvvisi di ospiti da altre corti, da altri paesi dell'Europa e quindi loro alietavano le giornate della corte, anche una semplice, come dire, avevano voglia di un balletto e loro componevano, quindi erano sempre pronte H24 a servizio insomma, a servizio della corte e per ricreare appunto questo ambiente della corte interviene comunque la pandolfaccia è da qui che nasce questa collaborazione? Sì, in verità sono stato travolto all'inizio dalla passione e la bellezza del progetto quindi nella prima telefonata che ho ricevuto da Giovanna e da Sara ho già capito l'importanza del progetto sia per il tema che tratta quindi sul tema delle varie opportunità che da tutto il tema del storico che affronta quindi come tipico della pandolfaccia quando veniamo coinvolti non riusciamo a tirarci indietro e quindi ci siamo subito messi in gioco con Giovanna per poter portare questa cosa tra l'altro lo spettacolo, come è stato detto, si svolge all'interno della corte malatestiana che per noi è un luogo molto caro e quindi perché non collaborare? Cosa farà la pandolfaccia? La pandolfaccia rivocherà quello che era la corte e farà dei quadri di tableau bevan e farà dei quadri praticamente all'interno del concerto e farà ancora di più calare nell'aria che il luogo già ha quindi aria che si respira all'interno della corte malatestiana più musica rinascimentale, più tutto quanto, creerà questo connubio e quindi travolti da questa cosa non siamo riusciti a dire di no anzi ci siamo appassionati e abbiamo collaborato e stiamo anche ancora in questi giorni lavorando sempre di più perché lo spettacolo diventi veramente bello Tra l'altro lo spettacolo è a titolo gratuito è necessaria la prenotazione naturalmente perché gli ingressi sono contingentati quindi viene fatto tutto a norma Allora quali sono le tue colleghe che vedremo sul palco? Perché non sono da sola Con me ci saranno le mie colleghe d'ame Esatto Anna Zanotti che sarà Laura Peperara e poi ci sarà Caterina Vedovi che sarà Livia d'Arco io sarò Anna Guarini Alfonso d'Este è il narratore e ci porterà nell'ambiente ci farà entrare nella sua corte ed è Enrico Spelta e poi ci sarà Laura Valentini la nostra cembalista che sarà il nostro maestro di musica Quindi musicisti Quindi tutte donne Sì, selvagge Molto Molto selvagge come è il titolo appunto dello spettacolo Nel tardo rinascimento il concerto segreto delle dame va da sé che non vogliamo e non possiamo svelare nulla però assisteremo ad un gran bello spettacolo fatto di musica e anche insomma di un contesto insomma importante sentito, partecipato proprio sembrerà di calarsi nell'epoca Girerà tutto lo spettacolo intorno alla figura di Anna Guarini figlia del poeta Guarini fra l'altro che purtroppo subisce una brutta fine all'interno dello spettacolo e sarà il primo impatto che il pubblico vedrà quando entrerà alla corte quindi tutto girerà intorno a lei sia il narratore ne spiegherà il motivo quasi tutta la musica poi tenderà a mettere in luce la figura di Anna Guarini che per me è stata una rivelazione ma tutte le donne che componevano in quell'epoca erano donne forti di una forza inaudita ma che a un certo punto si fermano perché soccombono e quindi portare in scena una figura come quella di Anna Guarini è stato anche emozionante per me perché poi leggere la sua storia mi ha coinvolto particolarmente tanto è vero che da quel momento in poi ho fatto delle scelte musicali ben precise sicuramente una donna che nel suo tempo nella sua epoca e in quel contesto ha lasciato la sua impronta che vogliamo raccontare anche alle donne e non solo di oggi allora l'appuntamento è alla corte malatestiana alle 21.15 venerdì 16 luglio grazie a Giovanna Donnini e grazie anche a Fabio Fratesi grazie a te, grazie a voi vi aspettiamo giovedì 22 luglio alle 21.15 ci trasferiamo alla Rocca Malatestiana questa volta per un altro evento dove protagonista sarà anche il cinema in un certo qual modo assolutamente sì il cinema che entra diciamo con una bella proposta quest'anno come un nuovo linguaggio dentro questa rassegna e lo fa in modo importante perché il 22 l'evento di conclusione della quarta edizione di Impronte Femminili in un dialogo fra quello che è anche una rassegna cinematografica ormai comunque la sua seconda edizione della nostra città che è proposta da Fano Fellini che è Cinefortuna il 22 è la serata conclusiva anche di quella che è la mostra If Piccolo Drago di Maracerri iniziata l'11 di luglio alla Rocca Malatestiana visibile dall'11 al 22 di luglio il 22 quindi è il finissage della mostra sarà il finissage della mostra ma anche la conclusione della quarta edizione di Impronte Femminili e ci dedicheremo al linguaggio del corto d'artista intorno all'opera di Maracerri che come sappiamo ormai è la illustratrice che ha dato il volto al manifesto di quest'anno della rassegna Impronte Femminili con questa If che è alle mie spalle questa bambina in ascolto di una terra verticale Mara è una grande artista che ha molto giovane avanza già delle collaborazioni molto importanti e porteremo in scena due cortometraggi entrambi proposti alla Biennale Cinema di Venezia uno è il cortometraggio Omelia Contadina di Alice Rorovacher con il quale lei ha avuto una collaborazione ma poi meglio di me Luca Caprara che ci ha aiutato diciamo a definire il contorno di tutto l'appuntamento del 22 ci potrà raccontare di queste due opere la seconda opera è quella di Maracerri in collaborazione con Magda Guidi che ci propongono sogni al campo quindi sono due cortometraggi importanti siamo veramente onorati di poter presentarli a Fano con il contributo e lo ringrazio veramente di Luca Caprara e la rassegna proposta appunto da Fano Fellini perché naturalmente il supporto tecnico per la presentazione e per l'offerta di questi cortometraggi è importantissima naturalmente avere a disposizione i mezzi giusti e anche il modo giusto per fruire e per capire per poter diciamo godere della bellezza di questi cortometraggi allora Luca buonasera e benvenuto innanzitutto tu sarai il 22 protagonista farai un po' da presentatore e da mediatore insomma masticando un tema a te molto caro insomma quello del cinema che cosa succederà allora nel dettaglio? Beh succederà innanzitutto che credo sia la cosa più importante da comunicare che la città di Fano avrà la possibilità di vedersi su un grandissimo schermo in un luogo bellissimo quale quello della Rocca una eccellenza del territorio perché Magda e Mara sono del territorio vengono dalla scuola del libro di Urbino fanno parte di Alma Animatori ma parliamo di un'eccellenza conosciuta stimata e premiata a livello internazionale cioè quindi è davvero forse uso una parola un po' forte davvero un privilegio quindi in modo estremamente appassionato espassionato vi dico di venire perché i due corti di cui stiamo parlando sono due corti che hanno un impatto visivo davvero straordinario e vederli su un grande schermo porta ad un plus di emozione rispetto anche ai temi importanti perché si parla di paesaggio si parla di sostenibilità si parla di crescita si parla di memoria sono dei temi estremamente importanti realizzati in modo poetico e davvero straordinario e quindi cosa di meglio che venirsele a vedere nasce anche questa collaborazione questo dialogo tra Fano Fellini e impronte femminili quindi insomma un altro bel intreccio se così si può definire no? Sì perché poi tutto sarà declinato nel tentativo di raccontare un po' il femminile legato all'arte abbiamo avuto come paese come cinema italiano e lo abbiamo tuttora delle straordinarie attrici e noi ne omaggeremo quattro non svelo nulla però insomma intanto do questo input e appunto attraverso questo crossover poi andremo a raccontare degli straordinari talenti contemporanei attraverso una forma del linguaggio che il cinema d'animazione e di poesia che magari detto così potrebbe anche spaventare ma in realtà è davvero uno strumento di grandissima emozione visiva e ripeto parliamo è già stato detto di opere che sono state selezionate al secondo festival più importante del mondo che è Venezia hanno vinto premi ad Annecy parliamo di artiste che la stessa Alice Rovvacher gran prima giuria Cannes parliamo di artiste conosciute e apprezzate a livello internazionale e avere ripeto perché questo è il valore aggiunto avere la possibilità di averle sul territorio in un contesto straordinario quale quello della Rocca e su un grandissimo schermo è un appuntamento imperdibile direi di non svelare altro però abbiamo avuto di nuovo il piacere di dialogare con Mara Cerri l'abbiamo intervistata per voi ritroviamo anche questa volta in collegamento con noi Mara Cerri per l'ultimo appuntamento quello conclusivo con impronte femminili ci sarà una proiezione di cortometraggi selezionati alla Biennale di Venezia e in questa mostra internazionale d'arte cinematografica si parlerà di sogni al campo allora vogliamo sapere tutto di sogni al campo come nasce e il perché insomma di questa scelta sogni al campo è un cortometraggio realizzato in animazione cinema d'animazione quindi un cortometraggio fatto di disegni più di 4.000 disegni dipinti a mano di cui sono coautrice con Magda Guidi carissima amica e compagna di viaggio e di lavoro è il nostro secondo corto insieme il primo risale al 2011 si intitolava Via Curelotto questo è il secondo corto che abbiamo concluso l'anno scorso e presentato alla Biennale di Venezia nella sezione orizzonti è ambientato nei nostri paesaggi nelle nostre colline è possibile vedere lo sfondo di Urbino è probabilmente per noi anche una specie di dono un bisogno di rimettere qualcosa a quel paesaggio dove siamo cresciute e abbiamo imparato a disegnare il cinema praticamente cioè a fare il cinema su un tavolo da lavoro con delle matite, dei pennelli semplicemente uno scanner questo è il bello del cinema d'animazione che non ha bisogno di chissà quali mezzi e costi ma semplicemente una gran voglia di fare di indagare e raccontare quindi sono come dicevo più di 4.000 disegni dipinti a mano raccontano una crescita la crescita di un ragazzino che sta cercando il suo gatto ma non lo troverà perché questo gatto è andato a morire di nascosto come fanno fuori dalla vista dell'uomo come fanno questi animali al centro del film avviene qualcosa una sorta di incendio un incendio dell'immaginazione o della memoria in cui questo ragazzino deve elaborare attraverso una foresta di simboli quello che gli sta succedendo per poterne uscire cresciuto è un film a cui teniamo tantissimo a cui abbiamo lavorato per moltissimi anni per moltissimi anni perché in maniera discontinua perché purtroppo verso il cinema d'animazione di questo tipo non c'è ancora un'attenzione diciamo produttiva consistente e quindi abbiamo lavorato questo film nel tempo framezzandolo alle altre commissioni i lavori che nel frattempo dovevamo e volevamo svolgere ci teniamo molto e quindi non è un film che sta girando i festival nazionali e internazionali un po' in tutto il mondo distribuito da Mew da una produzione francese il film è prodotto da Withstand Film e New Production che sono appunto questi due produttori che ci hanno sostenuto purtroppo in un anno in cui i festival del cinema sono tutti quanti online quindi pochissime volte io e Magda abbiamo avuto il piacere e il gusto mi viene da dire di vedere questo film sul grande schermo è successo appunto a settembre scorso a Venezia è successo in Ancona per una mostra sul cinema d'animazione che vi invito a visitare presso la mole di Ancona e accadrà appunto di nuovo alla Rocca Mala Testiana di Fano il giorno 22 luglio in cui nello stesso serato sarà proiettato un cortometraggio di Alice Lorbacher o Melia Contadina ci sono ovviamente dei punti in comune tra questi film e con il tema della rassegna appunto che sono il rapporto appunto con il paesaggio con la terra e con il tempo che trascorre Grazie allora Mara Cerri Luca? Beh direi che quello che possiamo dire è che la città di Fano dal 16 al 22 luglio in quella cornice meravigliosa che è la Rocca Mala Testiana per una settimana diventa una città che parla di cinema e farà vedere a chi lo vorrà dello straordinario cinema Grazie allora Luca Caprara Sara dobbiamo ricordare la gratuità di questi appuntamenti l'obbligo di prenotazione per gli ingressi contingentati Sì lo hai fatto tu lo ricordiamo nuovamente che sono tutti ingressi gratuiti ma con prenotazione obbligatoria per cui per chi vorrà venire sarà naturalmente possibile farlo prega e prenotazione per chiamando telefonicamente oppure per per email nelle indicazioni che stanno scorrendo in sovraimpressione io non posso aggiungere che che sono molto contenta di questo dell'andamento insomma di questa quarta edizione non è stato per niente semplice come non è stato per nessun organizzatore di attività culturali non solo nella nostra città ma nel nostro paese veniamo comunque da due anni complicati dove comunque la situazione pandemica ha imposto priorità diciamo sanitarie e alcune cose come il mondo della cultura sono sicuramente rimaste in attesa in attesa comunque di vedere la luce in attesa di tornare a vedersi in attesa di tornare ad occupare spazi importantissimi per eh la cultura e per la nostra identità eh e continuare ricominciare progressivamente con tutte le attenzioni del caso a farlo è una grande boccata d'ossigeno è anche un grande eh direi elemento di benessere per tutti noi perché è molto importante poter potersi poter tornare a vedersi e poter tornare a parlare di cose belle che ci arricchiscono l'anima e che ci permettono comunque di incontrarci eh a livello profondo per cui io sono contenta di che siamo riusciti comunque da marzo eh alla fine di di luglio a proporre comunque appuntamenti prima online e poi in presenza perché come fanno tv ben sai chi ci ha seguito ben abbiamo messo in relazione tantissime persone abbiamo avuto tantissime ospiti abbiamo avuto tantissimi approfondimenti diversi diversi linguaggi abbiamo toccato tematiche insomma ampie e e siamo riusciti anche ad occupare spazi importanti della nostra città in presenza per cui sono molto orgogliosa ringrazio tutte le persone che eh insieme a noi al comune di fanno hanno lavorato eh eh fanno rete e ci permettono comunque di di approfondire di condividere questo percorso e direi insomma eh continuiamo così grande fiducia anche per il futuro e per il prossimo anno grazie allora all'assessora Sara Cucchiarini grazie a Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti